non sembra diretta un fattoria quella bassa Sì. Dai, io. Ah, buono. No, 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 no. Eh, io sono troppo basso, no? Però, eh che se né in situazione tu vado qua sopra perché... dopo... Arrivo al sopra... Eh, dopo arrivo al sopra qua... Eh, sono troppo basso... Ci sono le scale. Ma porca troide... Eh, c'è la Jump! Eh, Falou! Ma come è successo di chiare la ragione? È andata lì davvero, gasp! No! Jump e Falou? Se arriva qualcuno, sono morto. Jump e Falou... Jump e Falou. Dai... bello però la regione, lo scartano, non ci creda oh no eeeh se puoi cos'è? minchia ma oh 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 non c'ho belle armi eh c'è che devi non morire eh io no io proprio no ma quasi quasi vengo da te c'ho pistola più pompa blu eeeh eeeh oh io non ci vado nella fattoria che un po' perché ci stanno pure non ci fai? no c'ho il foglio e il jump intanto dobbiamo andare verso di là quindi è venuto da andare in fondo ho trovato ho trovato c'ho lo scartoro e il pompa d'oro magari siiii scartoro eh l'ho detto anche il pompa d'oro cioè eeeh e per questo ho detto che c'ho belle armi eh no che te l'ho detto dove sei? qua sotto ecco mi scuri eeeh eeeh arriva bello non c'è mai la pompa d'oro non mi scudi eeeh io che trovo sempre prima lo scudo e poi non mi scudi ma fangola ah quanto scartoro piglielo cazzo non ci credo ma non sei? e cosa c'hai? ah, lei non lo bello ma lì non lo bello ma la tesco è? vuole pompa d'oro? ma che tu sei mi schiene da allora? si vuoi? ahah dove fai? eh mi stiamo a un burgo mi stiamo a un burgo noi stiamo a un uomo ah 4 comunque la battaglia non visti due è vero e non verranno oggi diciamo che il faiore non è qua ecco ricordo no non ci stanno più aspetta eh ci stanno più ma no secondo me ci sono l'altra patria non sto guardando non è che ciò non è quello che sto sopportetico eh ma per vedere ma non è che mi sto fermo diciamo che sparo lo dico mi sono qua eh mi sono entratico come mai è questo punto da qua allora guardate ma devi usare ci sono due non nemmeno una non nemmeno una banderina ora trovo un altro scardaro due scardaro abbiamo ci stiamo ci facciamo e dopo ci devo correre su giaglio Eh vabbè ma... Oh guarda tu... Stai attento che ora arrivano quelli là del... L'anteletta Ali arrivano eh... Eh lo so... Ci facciamo? Eh aspettiamo, vediamo se arrivano quelli... Intanto siamo... Puoi andare avanti... No ma che senza andare? Non è che dopo ti ho ancora però perché... È meglio... Nel senso... Che pazzesco... Ho due scherdole... Pazzesco... Bello... È molto strano infatti aver trovato due scherdole d'ordio... Se no gli unici ci sono in tutta la mappa e... No perché... Posso capire quello per terra che ho trovato io all'inizio ma... Quello nella cassa è un 1% di... Mi sembra che c'è... Di trovarlo nella cassa eh... Ah ecco cosa diceva... Hai visto cosa ha detto... C-C-C-C-Gamer... Non so se... Se tu l'hai visto ma... Se tu ti stai fermo e miri... Hai visto che il puntatore si chiude tutto... Quello è il punto... C-C-C-C-C-C... Dove colpisci e... Farà lì... Preciso... In teoria dovrebbe essere così... Sì... Stai fermo però... Ah ma anche se ti è... Anche se sei alzato però non fa... Mh... Ah è vero sì... Eh non dovrebbe farlo d'alzato in teoria... Insomma è ancora baggata sta cosa... Perché non ci creda al cento per cento... Che vi fa? Vediamo se... Oh vedete... Non stai fermo è uno sparo da fermo... Non stai spari quasi mai da fermo... Mh... Non ti vedi... Eccoli eccoli la... Ho visti... Este... Este? Eh si saranno quelli di sicuro... Ecco... Si son appena... Eh vengono qua... Vengono qua... No no... Stanno andando... Come no... Vengono qua... Stanno andando verso... Stanno davanti... Eh nemmeno i titoli... Dai... Ah eh... Si ma... Si si ma... Si si ma già sono passati eh... Sono c'è più avanti... E non c'è più avanti... E non c'è mani... Vedi... Vedi la... Si vede ancora qua... Vedi... 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 Che ti vuoi fare... Vedi... Che ti vuoi fare... contestants... Ehm... Chiegelo... Ahhhh... Abbiamo ucciso nessuno... non è che secondo me se ne perdiamo contro quelli perchè perchè? perchè tanti vincono sempre loro non neanche tanti materiali alla fin fine siamo a destra di pinacoli come al solito ma allora ci continuiamo con qui di vera aspetta che c'è una c'è una slurp e poi la bevo chi è? non ne so qualcuno che ti è sparato a te? a me no eh no non credo andiamo andiamo dobbiamo passare in mezzo così in mezzo alle colline se sono sopra si incurano di brutto non possiamo fare pinacoli eh no ma niente ma allora a questo punto potremmo fare tutto il giro a sinistra allora a questo punto facciamo tutto il giro largo cazzo eh perchè appena passiamo lì eh ci incurano di sicuro non sopra eh mi vedi? ovest eh via 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 dai non ci incurano eh ma che stanno fai tanto via 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 ma quelli che saranno a destra e est adesso ci vengono dietro ci saranno dietro adesso eh non so infatti per quello che voglio dire facciamo tutto il giro a largo e a sinistra eh non so infatti per quello che voglio dire facciamo tutto il giro a largo e a sinistra per questo cazzo di punto eh voi così sto andando dietro dove che sono quelli che vabbè ma forse che sono da magari sono da parte destra del plume dell'agola no no troviamoci di qua più presto possibile vediamo verso destra eh 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 non so se eh qua è pericolosissima fabbrica qua c'è sicuramente qualcuno qua eh proviamo a vedere se c'è qualcuno eh ci diamo ci campioniamo dentro la qua ma è sceso qualcuno no 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 ma che no no come puoi che perarti qua eh dove vuoi andare scuola eh andrei qua stanno sopra le colline eh è avanti io via dritto eh ma lì l'incontro è di sicuro quelli la eh insomma quello è pure un altro punto bruttissimo là davanti strano che ci stanno sparando da dietro eh vedi hai fatto bene qua sopra qua sopra c'è qualcuno ecco lì c'è un giro largo dov'è? eh li ho visti li ho visti stanno uscendo dalla dalla cosa li ho visti li ho visti dove sei? oh i ma eccole eccole eh lo sapevo che questo è un punto di merda eh non so però dov'è che è? non lo vedo eh ma sopra eh ma ma povera eh ma sopra lì eh eh ma come siamo messi quel mezzo come c'hanno? eh non lo vedo eh no ecco 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 lì ecco lì ecco lì no 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 guarda io start ma lì devi vedere un po' beh hai preso tutta? no hai preso tutta ma non mi interessa aspettami chi è? che fai? si si ma ti direi no che fai? c'è indietro? non che mi spara un'altra ma allora si sparano freddi loro quelli sopra vaffanculo ma non è che quelle sopra non ci hanno sparato tutto di continuo se no quindi sotto qua? ma non è che quello ci sta venendo dietro quello non è non c'è mai dentro io avevo 3 kit però quello cazzo ma non è che l'ho preso si si non c'è mai dentro oh dioka ma che cazzo è? eh ma guarda lì ma qua c'è c'è la gente già camperata ma non vuoi sparciare qualcosa ma che hai fatto qua? il materiale cari ecco ecco sud est stanno salendo sopra la collina ma lì sono dentro no? cioè lì si lì c'è qualcuno pensi? si penso si si 195 l'ha costruito là ma hai aperto tu la porta eh? si si eh c'è qualcuno si c'è la giampe la metto qua eh oh ma c'era colpi da pompa da darmi che non ho foro 9 c'è 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 35 vieni su vieni su fa una scala vieni su eh no cosa faccio a venire? si non c'è qua eh ma c'è il coso qua eh lo so ma è così è venuto così e lo provo a saltare no vabbè ci vedi non è facile ecco caccole eh non ci riesco caccole io vedi con la jump eh no ma non riesco eh a salire è pazzesco eh non è facile vieni qua dietro davanti abbiamo gente usiamo la jump e poi quando scendiamo creiamo non devi seguire però eh eh che tanto ci vuole sempre lo stesso eh dai usiamo la jump no ma quelli stanno da sopra lì guarda vado vado si già non vuoi aspettare nemmeno ora non c'è stato la jump stanno fattando vai 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 stanno fattando eh lo andiamo si vado comunque c'ho il fallo anche che cazzo di scalano giadoglio ma c'è il drop ma c'è il drop eh ma forti via e io sparo però lo colpisce da tontano qualcosa con il mirino tutto chiuso ho un po' avventura che qualche ah lo quasi ucciso ho una l'avevo quasi ucciso però ho il missile aspetta aspetta come il missile non è che l'ho battuto bene battuta è sceso è caduto sotto uccidio ci riuscito non ci credo quella cosa è morto quello lì no t'avevo spaccato il muro oh stanno arrivando qualcuno sta arrivando dove vai coglione l'ho ucciso aspetta stavo sparando a quello dai dai fallo fallo che ci sparo anche se non ho finito i colpi aspetta io vuole super purissimo vuoi i colpi eccolo è qua è qua no dov'è guardi è qua no guardi guardi curami curami feroce ma adesso come faccio come fai non ce ne faccio cala è super purissimo grande cazzo siiii curti l'animo perchè no perchè poi si bug se no euro vabbè pari oi Grazie a tutti.